Il Giro d'Italia delle cure pagliative pediatriche fa tappa a Pesaro e Fano. Sabato 1 giugno si è svolta una ciclo pedalata per tutte e tutti, una doppia partenza da Piazzale Europa e dalla Club Nautico Fanese con arrivo a Bagni e Elsa a Fosso Segliore, una iniziativa dedicata alla promozione delle cure pagliative per i minori affetti da malattie inguaribili. La Fondazione Vanda di Ferdinando, di cui sono presidente, è riuscita a portare anche quest'anno a Pesaro e Fano una tappa del Giro d'Italia delle cure pagliative pediatriche che è un'iniziativa a livello nazionale promossa da Fondazione Maruzza. Per noi è veramente un orgoglio poter affrontare il tema delle cure pagliative pediatriche per aiutare le famiglie che al loro interno hanno un bambino con una diagnosi di inguaribilità e hanno bisogno di supporto e quindi di una rete di comunità. La terza edizione inaugurata lo scorso 4 maggio a Roma coinvolge la società civile, sensibilizza i professionisti sociosanitari e le istituzioni. Grande successo per le due precedenti edizioni con circa 35.000 partecipanti, più di 120 in 17 regioni italiane e coinvolte oltre 200 associazioni. Bilancio positivo anche per la tappa svoltasi tra Pesaro e Fano nel weekend. Una grande soddisfazione quest'anno. Siamo alla seconda edizione nel nostro territorio e ci sono state tantissime adesioni. Abbiamo promosso l'evento come andava fatto e ci ha fatto molto piacere vedere tutta questa partecipazione sia alla partenza di Fano sia alla partenza di Pesaro. Le cure pagliative e pediatriche sono un approccio assistenziale in grado di garantire ai minori affetti da malattie inguaribili la miglior qualità di vita possibile attraverso il lavoro di professionisti specializzati. Situazione non positiva in Italia che presenta solo due centri dedicati. A livello nazionale ci sono ancora purtroppo solo due centri. Cerchiamo di sviluppare e di favorire la creazione di un centro anche a Fano per aiutare i bambini. Ci sarebbe l'ospedaletto dei bambini, sarebbe un buon luogo per mettere nel centro Italia un centro per aiutare queste famiglie che non vanno lasciate da sole. Dobbiamo fare rete e fare comunità.